Artigiani orafi altamente specializzati, questo l'obiettivo formativo del corso tecnico superiore sull'arte del gioiello che avrà sede ad Arezzo e potrà vantare collaborazioni prestigiose con i migliori orafi del distretto aretino e non solo. Siamo 14 soci fondatori, tra cui due aziende aretine del settore, le quattro associazioni categoria, Arezzo Innovazione, la provincia di Arezzo come ente pubblico, l'università è un corso accademico quindi di tipo universitario che consente alle aziende di ottenere figure professionali altamente specializzate in settori specifici e particolari del distretto orafo. L'obiettivo è quello di crescere il fatturato, di crescere l'occupazione nel settore, di espandere il distretto orafo aretino sui vari mercati e comunque di fornire professionalità che servano sia a chi diventa un professionista nel settore sia alle aziende che poi accoglieranno assumendoli questi giovani che ottengono il nostro diploma. Una mini laurea biennale con un test e un attestato finale destinata a tutti coloro che vogliono specializzarsi nell'artigianato orafo di qualità. Ti serve come valore aggiunto all'oreficeria e alla gioielleria e appunto penso che sia opportuno anche trasmettere proprio diciamo soprattutto oggi con i problemi che ci sono per quanto riguarda il mondo del lavoro, la formazione, appunto ecco anche questa materia la ritengo opportuna. Il corso unisce il tradizionale sapere artigiano alle nuove tecnologie grazie a una sinergia tra sapere teorico e formazione sul campo. Bisogna abbinare le nuove tecnologie alla nostra manualità, alla nostra creatività. Diciamo l'obiettivo anche delle associazioni di categoria concreto è di fare Arezzo città dell'ore a livello mondiale per la produzione fatta in questo territorio che deve essere sinonimo di qualità e garanzia per tutto il mondo.